e allora vediamo che cosa succede anche sul carro di seconda categoria intanto c'è Emilio che vuole giocare col microfono hai il microfono anche te? No, non possiamo avere quel microfono il mio è più potente un saluto a Emilio Cinquini e ai protagonisti del carro di seconda categoria e un saluto a tutta la tribuna di Piazza Mazzini e a tutti gli ospiti regina dei nostri assecui e a legge il suo carmenale e noi ci divertiamo con questa invasione pacifica dei protagonisti del carmenale di Vireggio al primo corso mascherato di oggi, questa domenica ancora a tutti voi, buon divertimento! ciao! la musica va e va la musica va la musica va e va la musica va la musica va la musica va e va e va la musica va e va la musica 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 va Grazie per la visione!